Ciao ragazzi da Vittorio, voglio vedere se riesco a prendere questo impegno di questa rubrica settimanale dove un po' riassumo tutta la settimana e ci prepariamo per la prossima questa settimana è più facile perché ovviamente non si gioca, non c'è la Serie A e quindi possiamo farlo questa domenica adesso vedremo settimana prossima se magari lo facciamo il venerdì o il sabato prima della partita è stata una settimana intensa come era prevedibile dopo il derby inizio di settimana tosto, forte, la vittoria al derby ovviamente ci ha regalato una grandissima gioia buona prova della Lazio, Lazio che ha giocato di carattere e questa era una delle mie preoccupazioni Lazio che secondo me tutto sommato fra l'andata e il ritorno si è dimostrata una squadra più forte della Roma che aveva più voglia di vincere nonostante le assenze, nonostante i problemi e questo è sicuramente un segnale importante è stata una settimana strana perché sì all'inizio c'è il derby per cui tante cose da discutere però poi c'è la pausa per la nazionale e quindi poteva essere una settimana scarica non l'è stato anche grazie purtroppo alla polemica fascista ho purtroppo fatto due video a riguardo, uno all'inizio della settimana, uno alla fine perché in Italia sembra che i fascisti sono solo della Lazio poi esce fuori che invece anche in Curva Sud c'erano dei striscioni assolutamente da condannare e ovviamente non ha condannati nessuno perché in realtà non siamo antifascisti ma siamo romanisti che rosicano e che vogliono attaccare la Lazio è una cosa bruttissima perché ovviamente io, come credo molti di voi, siamo antifascisti condanniamo questi atteggiamenti sia se sono fatti dai laziali sia se sono fatti da altri personaggi noi non vediamo il colore della maglia o il tifo noi vediamo solo il comportamento sbagliato e lo critichiamo vorremmo lo stesso atteggiamento da tutti gli altri approfitto di questo video anche per ringraziare i tanti nuovi iscritti è stata una settimana positiva per me perché dopo il derby con queste polemiche eccetera il canale ha ricevuto buoni numeri si vede che i miei video vi sono piaciuti e quindi ho dei nuovi iscritti che saluto è bello crescere sempre di più questa è una community apertissima una community aperta anche a tifosi della Roma assolutamente vi consiglio il canale telegram ma anche il canale discord riservato agli abbonati se vi volete abbonare mi aiutate a crescere quindi pensateci ovviamente io non vi costringo però questa è una bella community ai nuovi arrivati dico di farvi sentire e di scrivere commenti perché io di solito cerco di rispondere al più possibile ma c'è una bella community all'interno di questo canale quindi spero che vi troverete bene chi non si è trovato bene è la Lazio in confronto della nazionale perché purtroppo Mancini non so che cosa ma convocare solo Romagnoli in un momento in cui la Lazio vola a seconda classifica lascia molto perplesso anche perché la Lazio è piena di italiani non convocare la coppia a casa alle Romagnoli mi lascia di stucco come non convocare Zaccagni che è di gran lunga l'attaccante più in forma del momento scelte di Mancini scelte che adesso non voglio dire che con Zaccagni e con l'Inghilterra non perdevamo però non abbiamo la controprova e invece possiamo sicuramente dire che Zaccagni è il giocatore più in forma di questo momento in Italia e quindi è un'assenza stranissima settimana prossima ci prepariamo a Monza-Lazio partita da non sottovalutare perché ragazzi è una partita che potrebbe dire molto partita difficilissima secondo me per due motivi uno perché viene il derby vinto e potrebbe arrivare un po' di rilassatezza da parte dei calciatori che dicono beh abbiamo battuto la Roma in Monza ce lo mangiamo e due perché molti giocatori rientreranno dalle nazionali perché è vero in Italia c'è solo Romagnoli però c'è Marusic che è andato via Nikoj Savic che è andato via insomma ci sono tanti giocatori in giro per l'Europa e non solo e quindi arriveranno all'ultimo e non sappiamo in che condizioni arriveranno e quindi per questo motivo la partita contro Monza sarà una partita tosta una partita difficile una partita importantissima perché vincere contro Monza sarebbe un segnale fortissimo la Roma ha per esempio in casa la Sampdoria per cui una vittoria scontata per questo la Lazio non può permettersi di perdere punti contro il Monza considerando che poi dopo c'è la Juventus e quindi sarà una settimana importante una settimana importante anche per vedere il recupero di Cire Immobile un giocatore che per noi è fondamentale e insomma il dottor Rodia dopo il derby lo ha detto Cire Immobile è praticamente guarito useremo queste settimane per rimetterlo in forma ecco ci auguriamo di vedere Cire Immobile in campo contro il Monza non perché Felipe Anderson faccia schifo ma perché quello è il ruolo di Cire Immobile Felipe Anderson li fa male altra cosa in conclusione è non ci montiamo la testa perché questa rosa ha ancora tanti buchi siamo secondi in classifica stiamo facendo benissimo ma non ci dobbiamo illudere non dobbiamo dire che questa Lazio è più forte di Juve Milani Inter sta giocando meglio ma giocare meglio non vuol dire essere più forti bisogna tenere la testa bassa, la concentrazione perché speriamo di no ma la Lazio potrebbe inciampare detto questo il programma di settimana prossima dovrebbe essere spero come quello di questa settimana dovrebbe essere abbastanza libero per cui dovrei caricare due video a settimana a partire da lunedì fino a venerdì sabato non so che cosa faremo se ci sono dei video o meno e poi ovviamente domenica il post partita sempre al fischio finale della partita della Lazio volevo iniziare una nuova rubrica volevo portare qualche altro profilo di ex giocatore della Lazio di giocatori che hanno lasciato il segno nella storia della Lazio vediamo se riuscirò a farcela settimana prossima iniziare questa nuova rubrica vorrei anche riprendere Lazio Stori con qualche episodio legato alla storia della Lazio e in conclusione visto che qualcuno me lo chiede parliamo di Luca Ciampi perché Luca è super impegnato non abbiamo litigato non ci siamo separati non lo so come un divorzio andiamo per strade diverse semplicemente Luca è super impegnato con il lavoro ovviamente come potete immaginare Luca ha un lavoro e quindi in queste settimane è impegnato mi sembra che settimana prossima sia all'estero per cui non credo che vedremo video con Luca ma volevo anche chiarire che non c'è stato nessun litigio non c'è stato nessun problema però per esempio Luca mi manda sempre messaggi non ci sentiamo da un po' perché io sono incasinato lui è incasinato speriamo di poter a breve ritornare a fare qualche video insieme o di poter goderci di qualche video di Luca magari della sua rubrica del venerdì vi daremo aggiornati settimana prossima credo di no visto che Luca è all'estero magari fra un paio di settimane riusciremo a tornare a lavorare insieme ma ripeto non c'è nessun problema fra me e Luca ciao godetevi questa domenica e noi ripartiamo lunedì con due video carichi uno a mezzogiorno e uno a mezzogiorno a mezzogiorno